Valar Morghulis, benvenuti all'analisi del secondo episodio della seconda stagione di House of the Dragon, io sono Saia, la vostra host. Innanzitutto fatemi ringraziare tutti voi per il supporto mostrato sia nelle live che nell'analisi, è sempre bellissimo tornare a parlare di queste cose con voi e scambiare opinioni. E nuova settimana, nuova puntata, e abbiamo tanto di cui parlare, quindi è bene andare dritti all'analisi, prima però è bene fare una serie di premesse. La prima è uno spoiler warning, si parlerà della puntata nel dettaglio in ogni momento di questa analisi e dal disclaimer si parlerà anche di Fire and Blood e, se le circostanze lo consentiranno, anche di A Song of Ice and Fire, The World of Ice and Fire e, strano ma non impossibile perché chissà dove ci porterà la nostra voglia di parallelismi, le novelle di Dunk and Egg. Se non avete visto l'episodio consiglio quindi di evitare di andare avanti, queste analisi non vanno da nessuna parte e potete ritrovarle sul canale quando volete. Seconda premessa, c'è gente più esperta e preparata di me ed è venente presente quando parlo di teorie e speculazioni che bisogna prenderle con le pinze. Ciò che dico non rispecchia necessariamente ciò che penso, poi, nel senso che il mio esporre determinate teorie automaticamente non significa che ci credo, semplicemente che mi piacciono o che vale la pena che siano esaminate. Cercherò di essere sempre il più oggettivo possibile anche se ogni tanto la mia opinione salterà fuori. Terza e ultima, le traduzioni sono mie dall'inglese e questo si riferisce più a quando parliamo della parte dedicata ai libri. Per quanto io guardi la serie in inglese, so che il doppiaggio è ottimo e quest'anno esce anche contemporaneamente. È una preferenza in quanto non ho mai letto i libri in italiano, che è una mia personale mancanza, legata al fatto che alcuni fanno notare qualche errore nella traduzione o espressioni particolari che si perdono. Di conseguenza preferisco così. Non sono una traduttrice, può darsi che non sarà sempre bellissima, quindi visto il mio provare ad essere il più letterale possibile, ma proviamo a farla funzionare comunque. La puntata è focalizzata sulle conseguenze degli eventi di sangue e formaggio, in tutte le sfaccettature possibili. La corte di King's Landing è fuori di sé, ma mentre Elena ed Aegon sono devastati dalla morte del figlio, reagendo in modi opposti, e altri membri del concilio verde, e non solo, sono distrutti dal senso di colpa, il primo cavaliere Hottai Tower sa che deve sfruttare l'opportunità di rendere questa tragedia un potente strumento per la sua fazione, distruggendo la credibilità di quella nera. Il responsabile è irrilevante, la colpa deve essere data a Rhaenyra, e l'agente deve vedere il suo operato, toccarlo con mano quasi. Il piano è crudele, specialmente nei confronti della nipote in lutto per la morte del figlio, ma sui cittadini di King's Landing la cosa ha la sua efficacia. Almeno finché il desiderio di vendetta di Aegon e quello di lavarsi di dosso il senso di colpa di Christon Cole non lo chiamano a fare i conti, e Otto contro di loro non può nulla. Il primo ha bruciato tutti i suoi sforzi perché i cacciatori di topi fuori dalla Fortezza Rossa erano padri, figli e fratelli, e solo uno è stato il responsabile, quindi gli altri che ha condannato a morte sono innocenti e le loro famiglie sono passate dal maledire la regina nera a maledire lui. Il secondo, nel mandare Arric Cargill a Dragonstone per uccidere Rhaenyra, ha assunto un rischio che poteva essere evitato. Otto perde ancora una volta la sua spilla e il suo incarico, che viene dato all'arcomandante della Guardia Reale, che non può che esserne scioccato, ma non prima che riesca a togliersi un sassolino o due dalla scarpa. Rimane fedele alla sua fazione, però, per quanto inizialmente voglia tornare a vecchia città e lavorare con Daeron, il figlio minore di Alicente Viserys, che finalmente viene nominato e che è molto diverso dai fratelli maggiori. Forse un'idea migliore è quella di cercare supporto da parte di altre cast dell'Altopiano, suggerisce la figlia, specialmente quella dei suoi lord protettori, i Tyrell. A Dragonstone, Rhaenyra è scioccata per ciò di cui i verdi vogliono incolparla. Ha perso dei figli anche lei, mai farebbe una cosa del genere, a sua sorella Elena specialmente. Ma le basta guardare Daemon per capire che la colpa risiede nella sua fazione. Anche lei nel confronto si toglie un sassolino o due dalla scarpa e la partenza di Daemon lascia la fazione in una situazione di incertezza. Dove è andato? Sta davvero iniziando la sua campagna a partire da Arenal? E se sì, in nome di chi? E nell'incertezza generale, il piano di Cole comincia a fare il suo corso, Harry che entra nel castello senza problemi venendo scambiato per il gemello e forse avrebbe raggiunto il suo obiettivo o non fosse stato raggiunto da Eric stesso, possibilmente avvertito da Misaria, l'unica che riesce a fare l'associazione, forse per fortuna avendo visto Eric poco prima. Il duello tra i due è la rappresentazione in piccola scala, davanti agli occhi della regina, di ciò che è davvero la danza dei draghi. Una sanguinaria guerra civile destinata a riversarsi su tutto il regno, fatta di tradimenti e pugnalata alle spalle, ed è il peggiore dei crimini che si può commettere a Westeros, quello di un fratello che uccide un fratello, nonostante l'amore che li lega e tutto il dolore che un tale gesto comporta, che Eric non può sostenere. E così Locke uccide il suo riflesso e ne muore lei stessa. Sì, mi sto divertendo a fare riassunti del genere, comunque passiamo all'analisi tecnica. La puntata si intitola Renire la crudele, diretta da Claire Kilner e scritta da Sarah S, entrambe figure importanti della prima stagione, la prima ci ha dato l'impronta registica, la seconda è una parte fondamentale della sua scrittura e non solo. Per lei questo episodio è stato un po' la prova del 9 nei riguardi di questa serie. Fantastica sceneggiatrice, con un contributo all'industria che va considerato in dubbio ed enorme, potremmo dire che la prima stagione è stata un po' complicata per lei, ma qui, nella sua sceneggiatura, non esclude mezzo colpo, essa contiene tutto e con gli attori che ha questa serie, essa non può che essere valorizzata. La puntata volendo si potrebbe riassumere come una marcia verso la guerra, ma il focus è psicologico, non vediamo nessun esercito marciare. C'è un grande sviluppo dei personaggi, anche quelli con cui passiamo poco tempo. Sono umani, vivi, vibranti, le dinamiche sono credibili quando si vanno a guardare quelle di una famiglia. Disfunzionale, forse, ma tant'è. La puntata è a specchio non solo dal punto di vista tecnico, ma anche familiare. Parliamo di famiglie che in un modo o in un altro non riescono a comunicare. C'è chi ci riesce più di altri, intubbiamente, ma i suoi membri fanno fatica a raggiungersi, perpetrando anche un ciclo generazionale che non riescono a spezzare, per quanto forse lo vogliano. Otto è colui che nel caos generale pensa a come sfruttare la tragedia e il responsabile per lui è irrilevante e Rhaenyra deve essere incolpata in modo che più gente possa supportare la causa di Aegon e nel farlo soggetta la nipote e la figlia ad essere sostanzialmente uno spettacolo del dolore. Adelena non viene permesso di piangere il figlio in privato per essere confortata da gente che non conosce e che però non hanno conforto da offrirle. È lei in quanto regina che dovrebbe tecnicamente confortare loro ed è una cosa che lei non può, non riesce a fare. Lo stesso concetto di dovere di cui le parla Alicent e lei è strano in quel momento. Non che Alicent voglia essere soggetta ad una cosa del genere, ma il modo in cui agisce è anche dettato dal suo senso di colpa, che attinge anche dalla religione, sia dal suo attacco di panico quando parla del fatto che gli dèi la stanno punendo, sia più avanti, quando si spoglia per il bagno, che anche qui è collegato all'idea di purificazione, il lavarsi di dosso uno sporco morale e non fisico, con l'unica cosa che le rimane addosso che è la collana con la stella a sette punte del credo dei sette. Alicent non riesce nemmeno a raggiungere Aegon, non riesce a confortarla a parole o a gesti quando comunque lui vorrebbe solo il conforto materno, e non solo, ma anche lui è lasciato solo nel suo dolore, che si trasforma in una rabbia cieca, finendo per rivolgersi all'unica persona che forse è arrabbiata quanto lui, Christon Cole, contro il giudizio gran lunga migliore del nonno. Ciò che fa, manda incenere tutti i suoi sforzi, e ad otto non può che cadere la maschera, forse per la prima volta è completamente sincero con il nipote, sia riguardo le sue capacità, sia riguardo a chi l'ha messo davvero su quel trono. Rivela una verità che stona, ma che tutti in qualche modo conoscono, e in tutto questo aleggia sulla famiglia lo spirito di Viserys, quella figura che non c'è più ma che è ancora potente. La distruzione del suo modellino di Valeria, rappresentanza dell'apice del potere valeriano, lascia nella stanza un vuoto incolmabile, diventa uno spazio vuoto e quasi sconfinato, ed è quello il vuoto che Viserys ha lasciato, e che Otto si rende conto di non poter colmare. Nel tesserne le lodi, nel sottolineare la differenza tra lui ed Aegon, non si rende conto, o forse sì, chi lo sa, di star testendo le lodi di Rhaenyra, l'erede che Viserys ha scelto perché è simile a lui. No, anche per la fazione nera la psicologia, non sia altrettanto sfaccettata, poi Rhaenyra come Otto si toglie un sassorino due dalla scarpa, nel finalmente confrontare Daemon, e anche qui la presenza di Viserys è nell'aria, un gigante invisibile in ogni senso possibile. Il principe ribelle ama Rhaenyra profondamente, ma non ama la regina, il trono lo vede ancora come proprietà del fratello e non della moglie, e forse era qualcosa che doveva aspettargli di diritto, ma che Viserys non gli ha dato per paura di scomparire, un'ombra nella memoria gloriosa che il fratello minore, a detta sua, avrebbe dovuto rappresentare. Al contempo per la fazione nera vengono piantati i semi interessanti, quando i loro frutti saranno raccolti almeno. L'autorità di Rhaenyra sembra essere destinata a vacillare, si sono poste le basi di un conflitto tra lei e Jace, Bartimus Celtigar e Alfred Broom sfidano indirettamente o meno la sua autorità, il primo interrompendola mentre parla, e il secondo sostanzialmente mettendo in discussione ciò che dice quando nega di aver preso parte l'assassinio del nipote. Rhaeny se richiama all'ordine, il suo compito diventa quello di tenere la regina ancorata, di non lasciare che cada sotto la pressione e il lutto. Loro sono vicini ma al contempo lontani, in questo episodio, hanno però una capacità migliore di abbattere i muri che li separano. Tutto ciò che devono fare è raggiungersi. Il duello tra i Cargill, Enric e Derrick, un'anima sola divisa in due corpi, è il culmine di una puntata che ha i personaggi al suo centro, la rappresentazione in piccola scala della devastazione che sarà una guerra fratricida come quella che si è scatenata dopo la morte di Lucerese e Jairis, che forse avrebbe potuto essere evitata. Tra l'altro, molto bello il fatto che se inizialmente hai idea di chi sia chi, ad un certo punto del combattimento i gemelli hanno le stesse ferite, quindi quando Laurent dice chi, chi è Errick, nessuno lo sa davvero, non possiamo saperlo, ed è questo l'intento. Solo alla fine viene rivelato che il sopravvissuto è Errick, ma di base è irrilevante, perché un gemello è morto nell'esatto momento in cui è morto il primo, non avrebbero potuto vivere l'uno senza l'altro comunque. La regia, molto curata e delicata, come abbiamo già visto in precedenti lavori di Claire Kilner, accentua tutta questa splendida psicologia, anche questa in un gioco di specchi, simmetria e parallelismi. E le nere in ira sono inquadrate allo stesso modo in tutta la puntata, persino ciò che guardano, dalle spighe del funerale alla polvere barra cenere di Dragonstone e le inquadrature quasi claustrofobiche con prime e primissimi piani. Sono due madri che hanno perso i loro figli e ne soffrono terribilmente. La Kilner ha delle transizioni davvero belle, poi l'inizio della puntata deve essere caotico, così come deve essere caotica la distruzione del motilino di Valiria che avviene in contemporanea e la polvere cenere che cade cambia la scena. Un altro trucco simile lo usa durante il funerale di Jairis, ma con il suono. Il tamburo della processione aumenta d'intensità man mano che il panico di Elena cresce, fino al suo culmine. Ci sono, come nello scorso episodio, giochi di chiari e di scui, di luce e di ombre, una splendida fotografia che possiamo vedere specialmente nelle scene del funerale di Jairis, dove tutto sembra aver perso colore. Effettivamente, sembra che tutto sia visto attraverso gli occhi di Elena e Alice, senti il velo oscuro che copre i loro volti. C'è anche una soggettiva, quando viene inquadrato il membro del popolino che maledice Renira, anticipata e seguita dall'inquadratura degli occhi della regina e della regina vedova. Il funerale, poi, è girato con la tecnica dello slow motion, da una parte per consentire alla Kilner di scegliere le inquadrature migliori con il velo, che lei ha detto di aver amato molto e di aver voluto sfruttare, ma dall'altra perché rallenta l'azione, dandoci nuovo focus sui personaggi, le loro emozioni e sentimenti, oltre che essere anche un'espressione del lutto stesso, che paralizza, ma il mondo in qualche modo va avanti lo stesso intorno a coloro che lo subiscono. Non poche anche le inquadrature dal basso e dall'alto, particolarmente accentuate nell'interrogatorio di Larissa a sangue. Le prime, come già detto, sono per creare un senso di inferiorità, paura o ammirazione. Le seconde sostanzialmente l'opposto per dare una superiorità nei confronti del soggetto inquadrato. Ci sono poi i primi primissimi piani per accentuare emozioni e sentimenti dei personaggi e lo stesso vale anche per i giochi di sguardi. Durante il concilio nero, quando si parla dell'omicidio di Jairus, lo sguardo di Rhaenys si punta immediatamente su Daemon e non è l'unica. Alfred Brum lo guarda, poi Daemon a sua volta guardia se lui che Rhaenys e infine, quando Rhaenyra si siede e finalmente rivolge uno sguardo al marito, il suo volto cade perché il responsabile è lì davanti a lei e visto il sorrisino simbolo di colpevolezza sembra anche soddisfatto. È nel loro confronto che lo chiama un errore. Una cosa particolarmente interessante è il modo in cui è usata la macchina da presa in una sorta di espressione dei POV che troviamo in una song of ice and fire. Essa segue un personaggio specifico alla volta facendo anche cambio tra questi quando il focus si sposta. Nel confronto tra Daemon e Rhaenyra la macchina da presa segue la regina nera in ogni movimento mentre Daemon è fermo anche quando si muove. Il focus ce l'ha quando lascia la stanza e a sua volta in corridoio c'è un cambio di prospettiva tra lui e la figlia Bella con la macchina da presa che si ferma all'incontro tra i due e poi comincia a seguire la ragazza. Lo stesso vale per il confronto tra Otto ed Egon. La telecamera segue Otto in ogni movimento con l'occasionale cambio verso Egon mentre Christon ha solo un momento il primo piano che mostra la sua prima e genuina reazione all'essere proclamato primo cavaliere del re qualcosa che forse non si può dire voglia. A tutto questo potremmo aggiungere delle scene particolarmente degne di nota. La distruzione del modellino di Valeria da parte di Egon simboleggia il passaggio di potere definitivo non c'è più nulla di fisico di Viserys e la cosa si concretizza quando il re ripetendo tra l'altro le parole di Laris della scorsa puntata licenzi a Otto sulla base che fosse il primo cavaliere del padre non il suo. La presenza di Viserys rimane nell'aria è ingombrante tanto quanto il suo modellino ma Egon ha distrutto i segni della sua presenza e con essi anche la rottura della pace che c'è stata nel suo regno la rottura della pace del re la prima legge di Westeros durante il funerale poi quando la carrozza si blocca e il popolino la circonda dando sostanzialmente inizio all'attacco di panico di Elena le mani sono protese verso di lei che viene vista come una figura salvifica di qualche tipo una reliquia qualcosa di sacro ma quelle mani non sono per lei non sono per darle conforto piuttosto è Elena che deve darlo a loro è ciò che davvero cercano in quel gesto andando avanti quando Eamond è nel bordello di Madame Sylvie è nudo non solo di fisico ma anche emozionalmente mostrando autenticità cercando un conforto in Sylvie che potrebbe essere cercato in una madre effettivamente per la posizione fetale che assume il latte che gli viene portato qui Eamond è sempre un bambino che cerca conforto che la madama gli dà ma lei come gli altri stanno recitando una parte e lo vediamo da ciò che gli dice ultimo ma non ultimo la psicologia di Christon per quanto forse dopo questo episodio sia stato incoronato come un personaggio personaggio non attore bene sottolineare più detestato della serie è molto sfaccettata ed è meglio espressa nella conversazione tra lui ed Arric Cargill ciò che gli dice è una proiezione dei suoi sensi di colpa la macchia fisica sul mantello di Arric è solo questo una macchia che può essere lavata perché il suo onore è intatto ma Christon per quanto sia pulito con un mantello perfettamente canteggiato ha su di esso macchie indelebili perché sono macchie morali e non importa quanto provi a ripulire se stesso o la sua istituzione lì sono destinati a rimanere solo nel chiedere ad Arric ciò che chiede o meglio che ordina Christon infanga ancora una volta il suo mantello una nuova macchia indelebile passiamo ora alle easter eggs neanche a dirlo alcune di queste sono citazioni quasi dirette di ciò che viene detto in Fire and Blood nel confronto tra Egon e Otto ci sono una serie di citazioni ed è sempre una bella cosa da vedere essendo un libro storico il numero di dialoghi è minimo e non si sa se effettivamente sono state pronunciate quelle parole ma sono queste piccole chicche che quando si trovano è sempre un piacere lo stesso vale per alcuni riferimenti di dialogo poi di Jamie Lannister e Harry Sokhart in A Song of Ice and Fire Harry Sokhart è il personaggio a cui Christon si ispira di più è costruito anche in base a lui quando Aemond rientra nelle sue stanze e capisce che gli assassini sono passati da lì si mette a fare ricerche per la stanza notando che qualcuno ha preso le monete dalle utilizzate nella scorsa puntata ne raccoglie una da terra e dall'inquadratura c'è un richiamo ai costumi funerari di Westeros nella serie dove vengono messe monete sugli occhi dei morti Aemond ha già un occhio bendato e la moneta gli copre l'altro la morte segue Aemond quindi i sicari erano lì per lui e potremmo anche considerare la scena un piccolo foreshadowing Jasper Wilde maestro delle leggi nell'episodio è chiamato Iron Road Verga di Ferro il suo soprannome in Fire and Blood che però non abbiamo mai sentito fino ad ora nella serie anche perché si è visto poco secondo Septoni Ustas una delle fonti utilizzate nel libro il soprannome viene dall'atteggiamento inflessibile di Wilde in materia di legge neanche a dirlo la cosa ha il suo valore narrativo e potrebbe tornare utile in futuro ora sappiamo cosa stava cucendo Elena nella scorsa puntata il sudario di suo figlio Jairis Elena alla fine della conversazione con Alicent prende qualcosa dal tavolo ci sono dei poni sì ma lei prende su quello che sembra essere un modellino barra giocattolo di un elefante più avanti nella puntata Rhaenyra da al figlio Viserys un giocattolo simile con la forma di un drago però non so bene cosa sta combinando Ryan quindi ma tra i vari simbolismi intorno agli elefanti possiamo forse prestare particolare attenzione all'iconografia cristiana è un animale che appare numerose volte con significati diversi ma sulle stesse linee rappresentando fede e spiritualità oltre che la saggezza di Dio in contrapposizione quindi al demonio spesso rappresentato da un serpente o un drago potremmo anche pensare che sia un riferimento alla compagna dorata e al futuro di Assongo Weiss and Fire effettivamente ma è comunque interessante e di nuovo Ryan mette quelle piccole cose pensiamo banalmente al fatto che ha instritto addirittura un riferimento ad una teoria all'interno della 1x04 l'albero di limoni durante il funerale ogni volta che viene detto pretendente al trono la macchina da presa inquadra Alicent e metto la cosa negli easter eggs perché potrebbe collegarsi sia alla provocazione di Rhaenys della 1x09 il ti sei mai immaginato sul trono di spade sia per possibilmente il futuro ci sono sempre dei piccoli riferimenti e può darsi sia importante ecco quando Rhaenyra dice che ciò di cui i verdi stanno cercando di incolparle è una bugia e che lei mai infliggerebbe avendo perso figli qualcosa del genere a qualcun altro specialmente ad Elena che sottolinea essere innocente è una sorta di riferimento al fatto che lei in Fire and Blood la chiama la mia dolce sorella non ci viene mai detto che tipo di rapporto hanno Rhaenyra ed Elena non essendo funzionale la storia che Gilda ne sta raccontando e purtroppo anche la serie non ci ha dato molto ma anche questo così come l'espressione che Rhaenyra le rivolge nei libri è un piccolo indizio insieme al fatto che nella puntata grazie alla regia sono sullo stesso piano con le stesse inquadrature due madri che hanno perso i loro figli come già detto si spera che quando ci sarà l'opportunità di possibilmente fare avere una scena insieme ad Emma e Fia essa venga colta per quanto riguarda i glifi valeriani che vediamo nelle stanze di Rhaenyra e Daemon le parole sono state utilizzate per la prima stagione e abbiamo fortunatamente il creatore dell'Alto Valeriano stesso David Peterson che ce li spiega dandoci la traduzione riguardano sostanzialmente la dinastia Targaryen e quella Velaryon quattordici fiamme vene di roccia fusa cuore di fuoco e sangue braci dell'impero occhi di vetro sogni di distruzione fuoco e sangue il sale scorre nel sangue valeriano il nostro scorre denso il nostro scorre vero e il nostro non deve mai assottigliarsi che i tuoi venti siano forti come la tua schiena che i tuoi mari siano calmi come il tuo spirito e che le tue treti siano piene come il tuo cuore dal mare siamo venuti dal mare ritorneremo i Celticare probabilmente faranno causa per danni ecco perché loro nonostante siano valeriani non hanno nulla del genere in generale possiamo notare come il primo abbia il moto dei Targaryen e un riferimento all'antica Valeria oltre che alle candele di vetro occhi di vetro appunto e ai sogni di Drago sogni di distruzione il secondo invece parla sostanzialmente della dominanza Velaryon sul mare con una sottile ripresa del moto di casata al punto che il sale marino scorre tra le loro vene questo è anche ciò che viene detto al funerale di Elena Velaryon della 1x07 il monologo di Vemond prima che il suo corpo venga dato al mare come costume Velaryon anche nei libri quando Vemond parla con Madame Sylvie è nudo non solo di fisico ma anche emozionalmente come già detto ed è molto interessante quello che lei dice quando i principi perdono le staffe dall'alto dei loro castelli e dei loro draghi la ripercussione è su altre persone gente come lei il popolino la cosa sarà dimenticata da Vemond la prossima volta che perderà le staffe se seguiranno il libro c'è da chiedersi se quel nome Sylvie sia un riferimento ad un personaggio di Fire and Blood che avrà la sua rilevanza più avanti nella storia dal nome Sylvanna vi chiedo quindi di tenere a mente lo scambio per entrambi i personaggi il futuro potrebbe riservarci delle sorprese quando Jace raggiunge Bela lei si sta esercitando con una balestra per come è girata la scena con Jace che è in traiettoria di tiro beh è un enorme foreshadowing ma ne parleremo solo quando sarà il momento siamo tornati però come nella prima stagione a mettere questi piccoli grandi riferimenti per i lettori ed è sempre bello da vedere quando Rhaenyra si trova nella biblioteca di Dragonstone che potrebbe essere essa stessa un easter egg visto quante volte viene nominata in Fire and Blood con le sue antiche pergamene valeriane e manoscritti vari nel libro che ha in mano possiamo vedere prima i conquistatori e poi nello specifico dei tre vi segna Targaryen che Rhaenyra idolatra e a cui si ispira nello stile nella pagina accanto ci sono delle parole evidenziate in rosso che riguardano il secolo di sangue ovvero il periodo di caos in cui discende Essos dopo il disastro di Valyria e c'è anche menzione a Meria Martell la principessa di Dorne ai tempi della conquista di Aegon il drago che vede Adam sulla spiaggia è Sismok che è stato di Lenor Velaryon quando Misaria chiede di essere liberata perché Daemon ha dato la sua parola Rhaenyra inizialmente si rifiuta dicendole che se le va bene perde una risorsa se le va male lei potrà tradirla la cosa è da tenere a mente per il futuro specialmente adesso che Misaria non sembra essere effettivamente andata via Formaggio è uno dei cacciatori di ratti impiccati ponendo fine alla questione che in Fire and Blood rimane invece aperta perché non si sa che fine ha fatto il nostro catturatore di ratti qui c'è anche un forte riferimento al secondo libro della saga A Clash of Kings c'è una costruzione verso quella che sarà una rivolta per il pane e non solo il malcontento generale per l'operato del re a questo serve la discussione tra Yuga e la moglie ma anche l'impiccagione dei cacciatori di ratti il gesto che rende il re impopolare diverso da ciò che fa Geoffrey Baratheon ma il significato rimane lo stesso nella puntata oltre a Yuga viene vista un'altra persona appartenente del popolino con i capelli argenti non sono gli unici ma il focus su di loro significa che sono importanti non ci è stato presentato ma è bene tenerlo a mente e insieme a loro va messo anche Adam che a differenza del fratello sembra essere più spensierato e ottimista nei confronti del mondo un certo drago color fumo sembra piacergli particolarmente come attitudine questa tanto che sembra amare fargli visita c'è il sigillo di Casamassi sul vestito di Elinda la lady di Rhaenyra questo viene indirettamente dai videodocumentari che vengono postati sul canale di Game of Thrones a proposito del dietro le quinte della serie in quello della scorsa settimana vediamo il risultato dei sogni profetici di Elena ciò che scrive e ciò che disegna con diversi riferimenti anche a ciò che non è ancora avvenuto dalla nascita dei draghi per mano di Daenerys alle nozze rosse in uno di questi disegni ci sono due occhi insanguinate con in mano delle spade e accanto c'è la scritta Loka uccide il suo riflesso e ne muore lei stessa o entrambe muoiono Loka è il simbolo di casa Cargile ed è esattamente ciò che succede i due fratelli hanno combattuto uno ha ucciso l'altro e il superstite è ben consapevole che mai avrebbe potuto vivere con quel peso sulle spalle morendogli stesso viene finalmente citato il quarto e ultimo figlio di Viserys ed Alicent Daron il più piccolo nei libri è infatti coetaneo di Jace viene mandato da bambino a vecchia città dove cresce presso Yei Tower Otto lo descrive come diverso dai fratelli per una qualità specifica ovvero quella di seguire istruzioni va da sé è solo una delle tante differenze tra Daron ed Egon ed Emond ma è interessante perché ciò che Otto considera una qualità in questo contesto può rivelarsi un problema in futuro ad un certo punto di Fire and Blood Daron viene descritto come una persona che essendo quinto genito non è mai stato esattamente abituato a guidare piuttosto a prendere ordini la cosa è da tenere a mente e parlando di alto piano Alicent dice ad Otto di non tornare a vecchia città piuttosto di cercare il supporto dei lord protettori del Mender i Tyrell i loro vestilli sembrano essere impazienti di agire serve il loro supporto e Otto può rivelarsi fondamentale sostanzialmente come nel caso dei demon espressi in ciò che dice Renisa Corlys se riesce a fare una cosa buona a compiere un'ottima impresa per conto della sua fazione tutto può essere perdonato a mente più fredda e forse Otto può tornare ad avere la spilletta e ora penso sia giusto fare un disclaimer nel prossimo segmento parleremo dei libri da Fire and Blood e da Song of Ice and Fire speculiamo un poco citando diverse teorie e speculiamo noi stessi se non volete quindi spoiler o possibili spoiler di questo tipo potete schippare direttamente al prossimo paragrafo come indicato nei timestamp veniamo quindi a Fire and Blood questa puntata è l'esempio di come si adatta bene il materiale che si ha non può non deve essere mai un adattamento uno a uno medium diversi richiedono cose diverse un po' la solita cantilena che ormai siete anche stufi di sentirmi dire almeno chi segue il canale da un po' ma così è è esattamente questo che va pensato quando si parla di adattamento efficace il mantenere intatti i pilastri della storia pur facendo i cambiamenti necessari per adattarla al meglio al medium che si sta usando quindi di cosa parlare quando andiamo a prendere in considerazione il libro anche qui gli eventi del post sangue formaggio sono questi e c'è anche menzione di casate che fanno la loro breve comparsa tra le pagine del capitolo che parla di questi eventi principalmente il drago rosso e il drago d'oro con un qualche riferimento a un figlio per un figlio ciò che è stato fatto ex novo è il funerale del principe Jaerys non menzionato in Fire and Blood volevo concentrarmi su due cose quindi qui in questa sezione di analisi Criston Cole che diventa primo cavaliere e il duello tra i gemelli Cargill la danza dei draghi entrò in una nuova fase dopo la morte di Lucerys Belarion nelle terre della tempesta e l'assassinio del principe Jaerys davanti agli occhi di sua madre nella fortezza rossa sia per i neri che per i verdi il sangue chiamava sangue per vendetta e in tutto il reame i lord chiamavano i loro vassalli ed eserciti si riunivano e cominciavano a marciare i dettagli di chi sono questi lord dove marciano li riserviamo per la prossima puntata qui però viene fatta menzione al fatto che Otto Itower oltre a fortificare le difese della capitale continua ad inviare lettere per fare in modo di portare gente alla causa di Aegon II in Fire and Blood il maestro della propaganda è più Larry Strong che tesse la sua ragnatela nell'ombra e non è l'unico ma anche lui non scherza ciò che gli serve semplicemente è tempo che nella serie si guadagna con il funerale Aegon non è però una persona paziente e la prudenza e cautela del nonno iniziano a infassidire il re le scambia per indecisione codardia tanto che Septon di Ustas riporta che un giorno trovandolo a scrivere l'ennesima lettera Aegon versa l'intero calamaglio sul grembo del nonno dicendo che i troni vengono vinti con le spade e non con le penne e che deve versare sangue anziché inchiostro della cosa viene fatto diretto riferimento nella puntata per quanto non si veda Aegon compiere il gesto in sé nella serie è il confronto con il nonno che fa cadere la farsa Aegon realizza che non è stato Viserys a renderlo re proclamandolo in punto di morte come erede ma sono stati gli schemi di Otto ciò a cui ha lavorato da tempo a renderlo tale in Fire and Blood sono i primi successi neri di cui ha notizia uno dietro l'altro dalla caduta della formidabile Arnall alla resa di potenti alliati nelle terre dei fiumi oltre che la dichiarazione di neutralità di alcune grandi casate a farlo vacillare il caos interno nella serie è tale che a malapena si vede quello esterno che avrà modo di brillare durante la prossima puntata o almeno si spera ma di cui ci viene fatta breve menzione quando Hugh e la moglie discutono del fatto che davvero King's Landing rischiano di morire di fame con il blocco delle navi velarion sulle acque nere e anche Alien e Adam parlano del fatto che sta arrivando una guerra di grandi proporzioni per quanto uno la veda come una catastrofe e l'altro come possibilità di onore e gloria sono le corti sia quella nera che quella verde ad essere nel caos ma se quella nera a Rhaenys che è intenzionata a non lasciare che Rhaenyra molli il tutto in quella verde Otto si trova in difficoltà perché ha perso il controllo non solo di Aegon ma anche di Christon Cole e c'è finalmente il punto di rottura anche se sua madre la regina vedova Alicent parlò in difesa di Serotto sua grazia fece orecchie da mercante alla sua supplica convocando Serotto nella sala del trono strappò la catena d'ufficio dal suo collo e la lanciò a Sir Christon Cole il mio nuovo primo cavaliere è un pugno di ferro si vantò abbiamo finito di scrivere lettere e Christon si mette immediatamente al lavoro e la prima cosa che viene riportata a dire come primo cavaliere sembra proprio un presagio di morte non è per voi implorare per il supporto dei vostri lord come un mendicante che implora le lemosina disse a Aegon siete il legittimo re di Westeros e quelli che lo negano sono traditori è giunto il momento che imparino il prezzo del tradimento più o meno anche questo è detto nella serie e anche se non è riferito ai sostenitori di Rhaenyra di quello parleremo nel prossimo episodio ma a Rhaenyra stessa parlando del fatto che è lei che deve sostanzialmente essere punita il discorso neanche a dirlo si amplierà con l'inizio della campagna militare Fire and Blood non ci dà particolari informazioni sul suo stato d'animo nella serie invece è inevitabile e c'è anche una serie di fattori che entrano in gioco a contribuire al senso di colpa c'è una cosa però che semplicemente nella serie cronologicamente viene prima ma il risultato è comunque lo stesso Sangue chiama Sangue e Dagon vuole vendicarsi della morte delle sue erede con il concilio ristretto che lo dissuade dall'idea di prendere Sunfire e farlo da sé e con Criston che avanza un'altra ipotesi più subdola offendo sostanzialmente di ripagare Rhaenyra con la stessa moneta per l'incarico viene scelto Arric Cargill e il compito è quello sostanzialmente di intrupolarsi a Dragonstone il cavaliere non solo conosce bene il posto essendoci stato numerose volte ha il perfetto modo di entrare ovvero tramite i pescatori che ancora sono nelle acque della baia permettendogli di approdare in uno dei numerosi villaggi di pescatori sotto il castello e da lì farsi strada indisturbato perché su tutti Arric ha una cosa a Dragonstone suo fratello gemello Erric così simile a lui che non sono in grado di essere distinti nella serie televisiva Kristen sostanzialmente gliela pone come modo per redimere il suo onore sta proiettando le sue colpe su qualcun altro Fire and Blood non ci dà la psicologia dei personaggi per la natura del libro stesso ma nella serie come nel libro Arric non è particolarmente entusiasta della missione se Arric non intraprese felicemente la sua missione in effetti ci dice Septon Eustace il turbato cavaliere visitò il tempio della fortezza rossa la notte in cui doveva salpare per pregare il perdono della nostra madre eppure come guardia reale giurato di obbedire al re e al comandante non aveva altra scelta in onore che dirigersi verso Dragonstone vestito con le vesti macchiate di sale di un semplice pescatore quale fosse il vero compito di Arric rimane questione di dibattito e nella serie la spunta ancora a Munkun in queste due puntate la sua visione che in Fire and Blood è basata sul resoconto di Grandmaster Orwell che vediamo nella serie è quella che prevale ma come abbiamo avuto modo di constatare nella prima stagione e anche in questa puntata non mancano riferimenti alle altre fonti tempo al tempo Munkun scrive infatti che a Darric era stato ordinato di uccidere Rhaenyra in modo da porre fine alla guerra sul nascere la frase per quanto breve è la base della conversazione tra Criston e Darric Per quanto riguarda le altre fonti invece Mushroom dice che l'obiettivo erano i figli della regina nera Giacaeris e Joffrey Strong virgolette d'obbligo sullo Strong quando Arric giunge sull'isola prende la sua armatura e il suo mantello bianco e come previsto non ha alcun problema ad entrare e girare per il castello ma ad un certo punto si ritrova davanti una persona inaspettata l'unica che può davvero riconoscerlo suo fratello Erick nel cuore di Dragonstone tuttavia mentre si stava dirigendo verso gli appartamenti reali gli dèi lo portarono faccia a faccia con Sererick stesso che capì subito cosa significasse la presenza del fratello i cantori ci dicono che Sererick disse ti amo fratello mentre sguainava la sua lama e Sererick rispose e io te fratello sguainando la sua i gemelli combatterono per la maggior parte di un'ora dice gran mestru Munkun lo scontro di acciaio su acciaio svegliò metà della corte della regina ma gli spettatori potevano solo stare a guardare impotenti perché nessun uomo lì poteva dire quale fratello fosse quale alla fine Sererick e Sererick si diedero a vicenda ferite mortali e morirono l'uno tra le braccia dell'altro con le lacrime sulle guance il racconto di Mushroom è più breve più salato e più cattivo la lotta è durata solo pochi istanti dice il nostro giullare non ci furono dichiarazioni di amore fraterno ogni carger denunciò l'alto come un traditore mentre si scontravano Sererick in piedi sopra il suo gemello sui gradini a spirale scagliò il primo colpo mortale un selvaggio taglio verso il basso che quasi tolse il braccio di spada di suo fratello alla spalla ma mentre crollava Sererick afferrò il mantello bianco del suo assassino e lo tirò abbastanza vicino da spingere un pugnale in profondità nella sua pancia Sererick morì prima che arrivassero le prime guardie ma Sererick impiegò quattro giorni per morire per la sua ferita all'intestino urlando di orribile dolore e maledicendo il fratello traditore per tutto il tempo qui vediamo emergere le altre fonti in un equilibrio con ciò che dice Munkun la sua è la versione che preferiscono Bardi e cantanti vari non c'è Septolius a spostare l'ago della bilancia o a dare equilibrio poi riporta infatti semplicemente che i due si sono uccisi a vicenda e il gran maestro e Mushroom sono due estremi ha senso quindi che la serie abbia cercato di trovare l'equilibrio tra i due c'è rabbia tra Erick ed Erick entrambi convinti nel supportare la rispettiva fazione mantenendo fede al giuramento fatto mentre veniva loro messo il mantello bianco sulle spalle ma tra loro c'è anche un profondissimo amore e la cosa si percepisce anche quando i due non sono insieme penso che sia stata la decisione migliore creare questo equilibrio tra l'altro potremmo anche forse azzardare il fatto che la versione che Mushroom dà nel libro sia incorretta i gemelli sono ispirati al mito arturiano di Balin e Balan nel quindicesimo secolo Sir Thomas Malory scrive la morte di Artù mettendo insieme diverse opere francesi e inglesi riguardanti Re Artù oltre che al suo materiale originale bene considerare qui il secondo libro di tale opera la ballata di Balin e Balan ispirata al racconto francese sui Dumerlen del tredicesimo secolo siamo agli inizi del regno di Artù Balin è un cavaliere appena uscito da sei mesi di prigionia per aver ucciso il cugino del re una misteriosa dama si presenta a corte con una spada che solo il più valoroso del cavaliere può toglierla dal suo fodero tutti provano ma nessuno riesce se non Balin neanche a dirlo visto ciò di cui stiamo parlando è una trappola la dama prova a riottenere la spada Balin giura di tenerla con sé così l'unica cosa che la donna può fare è avvertirlo questa spada porterà la sua morte e quella della persona che ama di più al mondo poco dopo la dama del lago chiede ad Artù la testa del cavaliere per una vecchia disputa ma Balin riesce ad ucciderla venendo bandito dal re intanto Perlino scopre le origini della spada e ciò che è destinata a fare uccidere il fratello di chi la brandisce seguono numerose peripezie Balin effettivamente raggiunge il fratello Balan cercando aiuto per riguadagnare l'amore del re che viene dato effettivamente da Merlino e qui altre numerose peripezie per Balin ad un certo punto arriva in un castello e viene convinto a combattere contro il suo difensore che è Balan che non è nemmeno tanto entusiasta di quel ruolo avendolo guadagnato dopo aver ucciso il precedente difensore i due non sanno di star per combattere l'uno contro l'altro a causa di un'armatura dal colore sbagliato e uno scudo scambiato all'ultimo non si riconoscono combattono e si feriscono mortalmente il riconoscimento avviene solo allora muoiono a poche ore di distanza l'uno dall'altro e Merlino li seppellisce insieme già questo ha le sue similarità con Fire and Blood e quando si parla dell'ispirazione ai due George R. Martin cite esplicitamente Mallory tuttavia c'è una versione ancora più simile a ciò che effettivamente il nostro autore scrive prendiamo infatti Dilly del Re un ciclo di 12 poemi pubblicati fra il 1859 e il 1885 da Alfred Tennyson alcuni sono ispirati alla morte di Artù e uno di questi si intitola proprio Balin e Balan questi i fatti Artù è informato che due sconosciuti sfidano ogni cavaliere di passaggio così sotto mentite spoglie si presenta al loro cospetto interrogandoli si sente rispondere che il loro obiettivo è quello di screditare i cavalieri della tavola rotonda Artù accetta la sfida che gli viene posta da loro e li sconfigge ma li chiama comunque a corte dove i due si presentano come Balan il selvaggio e Balan due fratelli viene spiegato che tre anni prima Balin che non è esattamente in grado di controllare la rabbia ferì uno dei servi di Artù venendo esiliato purtroppo gli anni non sono stati gentili per lui la cosa non è migliorata l'unica persona che lo tiene a bada anche dal ferire se stesso è proprio Balan in questi tre anni lo screditare i cavalieri della tavola rotonda era proprio per farsi notare dal re che sarebbe stato obbligato a riconoscere il loro valore Artù li ringrazia per aver detto la verità e li invita proprio alla tavola rotonda tempo dopo ad Artù viene comunicata la notizia che un demone ha ucciso dei suoi cavalieri in una foresta e Balan si offre volontario per dargli la caccia in sua assenza Balin prova ad essere l'uomo che suo fratello vuole che sia cercando di imparare le doti del più grande cavaliere esistente l'ancillotto che comincia a stimare ciecamente diventa molto rispettato a corte addirittura portando il favore della regina finché non capisce ciò che sta succedendo fra l'ancillotto e ginevra lascia quindi il castello adirato raggiungendo il castello di penlam il suo erede garlon che mette in discussione la virtù della regina raccontando varie dicerie su più giorni Balin non resiste lo attacca e poi scappa quando raggiunge la foresta si vergogna di quello che ha fatto lanciando via il suo scudo sfortuna vuole che incontri una nemica di Artù che peggiora la situazione parlando della corruzione generale di Camelot e la rabbia di Balin non riesce più a contenersi e scappa nella foresta urlando la stessa foresta dove Balin è a caccia del demone sentendoli urla Balin pensa di averlo trovato prende lo scudo del suo scudiero e si lancia all'attacco insomma i due combattono ferocemente senza riconoscersi non hanno mezzi per farlo si feriscono mortalmente e di nuovo il riconoscimento avviene solo lì la scena è straziante Balin si scusa della sua follia con il fratello e altrettanto straziante è la risposta siamo nati insieme e moriamo insieme in un unico destino poco dopo muoiono l'uno tra le braccia dell'altro che le due opere che le due opere siano indizio sulla verità di come è davvero andata nel duello tra Arrick e Derrick è interessante che la versione degli idilli del re è presente addirittura similarità con la versione scelta per la serie televisiva l'idea dell'essere nati insieme va da sé George è anche molto probabile che si sia ispirato a Eteocle Polinice figli di Edipo gemelli nati nello stesso momento e che si sono uccisi a vicenda protagonisti della tragedia di Eschilo i sette contro Tebe nonostante citi solo Mallory insomma è molto molto interessante concludiamo l'analisi parlando della prossima puntata ma prima vi chiedo come la scorsa settimana di scrivere nei commenti il voto che data all'episodio da 1 a 10 la guerra comincia a prendere forma finalmente gli eserciti si muovono e cominciano a crescere le tensioni tra antiche casate nemiche pronte a parteggiare per schieramenti opposti anche in funzione della loro faida antica quanto loro la tragicità l'enorme portata di questa guerra è nell'aria non solo per ciò che Renis dice alla regina nera parole che accompagnano il trailer e rappresentano il più orribile dei presagi ma anche dalle immagini per tutti è un punto di non ritorno daemon prende Arenal l'esercito verde lascia la capitale e sembra proprio che Rena sarà mandata nella valle per fare fede alla promessa fatta da giaccaeris alla sua lady accompagnata da quattro uova di drago e nei cieli sembra stia cominciando a prendere forma la guerra tra draghi ci sarà tanto da parlare nelle prossime settimane ma al momento la chiudiamo qui grazie per aver seguito un grazie speciale va come sempre a tutti i nostri patrons in particolare al nostro gran maestro chiara che avete visto in live l'arci maestro valerian catru i nostri maestri davide giollare jace dain la dama grigia riccardo e wildfull 73 ai nostri accoliti e i nostri piccoli novizi se volete anche voi onervi a patron in cambio di contenuti esclusivi ogni mese il link è in descrizione per tutto il resto ci trovate sui nostri social che potete trovare nel link 3 in descrizione ci vediamo alla prossima recensione come sempre il mercoledì in live e il venerdì o il sabato per questo tipo di analisi valardo eris